Mussolini, chi? Mara Maionchi? Me la passi? No Mara Maionchi, salve sono Benito Mussolini, ti ho fatto chiamare io, tutto bene? Bene bene, me ne compiaccio, ti ho fatto chiamare per proporti un'audacea operazione politica, come tu sai Giorgia Colmelone ha stravinto queste elezioni e il pseudo partito democratico è entrato profondamente in crisi, la sua segreteria è rimasta vuota e come tu sai in politica i vuoti si colmano! Certo, il problema è Mara che si sono presentati tutti e dico proprio tutti come candidati a segretario, e questo è grave Mara, si, questo rivela una disaffezione degli italiani verso la politica, cosa vogliono gli italiani? Vogliono una politica fatta di cose concrete, di ideali, di valori, per cui Mara voglio, voglio proporti la conduzione di un nuovo programma televisivo, sto parlando di PD Factor! Grazie! Grazie a tutti! Grazie a tutti